ci sono cose da fare ogni giorno lavarsi, studiare, giocare preparare la tavola a mezzogiorno ci sono cose da fare anche di notte chiudere gli occhi, dormire avere sogni da sognare orecchie per sentire per me ogni lavoro è bello idraulico, barista e anche bidello il soldato lo guardo con sospetto specialmente quando indossa l'elmetto chissà chi glielo ha detto di farlo lui non vorrebbe mica meglio che non parlo ecco vorrei dire che ci sono molte cose da non fare mai né di giorno né di notte né per mare né per terra ad esempio la guerra dico io ma vi rendete conto di quanto siete inutili a questo mondo ma vi rendete conto di quanto siete inutili